Intensa combattuta, c'è anche il conflitto di interesse per questi ragazzi che correvano grazie al tuo operato, una partita incredibile, pazzesca, però è andata male, che gara è stata? È stata una gara dove noi difensivamente abbiamo regalato due quarti, ci siamo approcciati un po' male in difesa, non tenevamo gli uno contro uno, abbiamo subito troppo la loro vehemenza in rimbalzo d'attacco e quindi abbiamo regalato troppi secondi possessi e loro hanno capitalizzato molto bene, forti alla loro freschezza atletica e comunque erano molto motivati e si vedeva perché ci tenevano a fare bella figura contro una squadra un po' più esperta di loro, quindi voglio fare i complimenti al Botteghelle e a tutti i ragazzi che hanno meritato comunque oggi di vincere la partita, onora a noi che comunque non abbiamo mollato anche quando sembrava chiusa. Che ti ha detto il Presidente Mussolino? Il Presidente mi ha detto sbrichiamoci che dopo c'è un compleanno. Ah per questo se n'è andato, va bene, va bene. Tanto è un passo falso, è il secondo in stagione dopo quello di Giretauro, però chiaramente il vostro è un gruppo che si è completato tardivamente e che può puntare in alto, anche inclusa questa partita che serve l'insegnamento perché l'effervescenza altrui è stata tantissima. Eh sì, ma questo è un campionato che si presterà molto a vittorie sulla carta, delle squadre un po' più sfavorite, anche perché ci sono tante squadre molto valide, molto giovani che fanno dell'aggressività, dell'intensità alla loro arma principale e quindi noi dobbiamo dare sicuramente di più, non ci dobbiamo nascondere che negli alibi ci siamo formati tardi, ormai questa era la quinta partita. Dovevamo invece vincere e confermare il buon successo guadagnato qui contro Castrovita il giorno d'ascorso, è un passo falso e comunque sicuramente ci farà bene e sarà propedeutico sicuramente per andare più arrabbiati ad affrontare la prossima partita e volere due punti a tutti i costi.